Questo servizio è offerto da Ciao sono Giada, la vostra consulente in nutrizione Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram Grazie a tutti Difendi il tuo stadio, difendi il nostro calcio Chi ama il calcio odia la violenza Ciao a tutti amici ed amiche di Stene Channel e ben ritrovati a Casa Stene in versione AmarCord, settima puntata Chi ama il calcio odia la violenza era lo slogan della campagna di sensibilizzazione contro la violenza negli stadi nata nel 1987 una pubblicità fortemente voluta dall'allora presidente del Milan Silvio Berlusconi che la produsse grazie a Fininvest e il tutto venne appositamente e volutamente registrato all'interno dello stadio San Siro di Milano proprio perché lo stadio milanese era stato teatro dell'ultimo gravissimo episodio di violenza di quella stagione nei confronti dell'allora portiere della Roma Franco Tancredi che colpito da un petardo lanciato dagli spalti si vide costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita tra Milano e Roma in gravissime condizioni ma questa è un'altra storia il ragazzino che nello spot corre verso il pallone oltre ad essere il protagonista della pubblicità lo è anche del nostro racconto odierno questo attore improvvisato in realtà si chiama Graziano Mannari è il forte attaccante della primavera rossonera per la prima volta calpesta l'erba di San Siro ma in cuor suo lui vuole farlo da calciatore e da lì a breve il suo sogno di vera realtà Arrigo Sacchi nel 1987 notò nella primavera del Milan un attaccante di movimento, rapido e fisicamente brevilineo Graziano Mannari poteva essere impiegato come prima punta o come esterno destro e questa sua duttilità piacque talmente tanto al tecnico di Fugignano che lo aggregò alla fortissima rosa della prima squadra del Milan e il debutto per il gol del boy nella massima serie non tardò ad arrivare nella ripresa entra Mannari 18 anni, debuttante in Serie A al posto di Gullit e qui c'è il raddoppio ad opera di Evani Piuttosto è ancora Gullit a sorprendere tutti non rientra in campo per un risentimento muscolare e a rimpiazzarlo è il 18enne Mannari che Sacchi ha richiamato dal torneo di Viareggio il ragazzino è un giamborrasca che fa mattire Cuttone e si tuffa in ogni azione propiziando il 2-0 dipinto dal sinistro di Evani Graziano Mannari e Rud Gullit una domanda a Gullit non so siete compagni in camera no mi sembra in ritiro? sì di solito perché lui è molto simpatico e con i giovani ci sa fare più degli altri è un modello quindi per te Gullit? è certo sostituirlo oggi è stata una soddisfazione enorme? è una soddisfazione ma penso sia stata soddisfazione anche per gli altri che magari l'hanno sostituito in passato un giudizio su questo ragazzino? sì io gioco tante volte con Mannari in un partito da Michiepola ho visto un giocatore molto felice in campo mi piace il giorno seguente tutti i giornali parlano di questo giovanissimo che ha ben impressionato e tutto sembra il contesto di una bellissima favola ma purtroppo la sfortuna comincia subito a bersagliare il povero Graziano tre giorni dopo il suo debutto in massima serie Graziano Mannari subisce il primo di una lunga serie di infortuni questo è estremamente grave rottura della tibia e del perone per lui la stagione 1987-88 si conclude qui il Milan a fine stagione vince lo scudetto e di questo titolo comunque si può freggiare anche Graziano Mannari che intanto lavora sodo per recuperare dall'infortunio e ritornare in piena forma ha la totale fiducia da parte di società ed allenatore e non vede l'ora di riaggregarsi alla squadra per dare il suo contributo stagione 1988-89 Graziano Mannari è recuperato a pieno dall'infortunio e il Milan è impegnato su più fronti campionato, Coppa dei Campioni e Coppa Italia proprio qui Mister Sacchi dà totale fiducia al giovanissimo attaccante e lo rischiera da titolare il 30 agosto del 1988 in quel di Campobasso Mannari da questo momento vive probabilmente il suo periodo più bello in maglia nosso nera segna dopo 5 minuti contro i molisani nella stessa settimana inoltre si toglie la soddisfazione di andare a bersaglio contro il Real Madrid nel prestigioso trofeo Bernabeu Torna in campo contro la Lazio sempre in Coppa Italia e va ancora in rete e in seguito si ripete completando l'opera realizzando un altro gol contro la San Benedettese 4 reti in 4 partite niente male per il bomber di scorta infine in campionato contro la Fiorentina torna in campo anche se per pochi minuti al posto di Marco Van Basten ed esce Van Basten era un po' nell'aria che una delle punte venisse avvicendata dato il gran numero di impegni che il Milano ha sostenuto ed entra un altro giovanotto interessante Graziano Mannari mentre Van Basten lascia il campo Graziano Mannari con il numero 15 prende il posto di Marco Van Basten manca la ciliegina sulla torta per quel che concerne il percorso agonistico di Graziano Mannari ovvero la prima rete in Serie A ne arriveranno addirittura due nella stessa partita il 12 marzo 1989 e la vittima sarà una squadra eccellente la Juventus due prodezze iconiche per un certo verso perché tantissimi tifosi rossoneri ancora oggi ricordano molto molto bene quella doppietta grazie a tutti grazie a tutti ma io sono molto contento di essere in questa squadra e anche di fare panchina perché fare panchina a queste campioni non è assolutamente disonorevole anzi, molto contento ma quando lei ha cominciato ha pensato mi piace fare il panchinaro nel Milan o magari un giorno protesterà tutti sperano di poter giocare comunque io sono contento del ruolo che mi ha dato il mister la fiducia che mi ha dato cerco di ripagarla sempre quando gioco cosa ha fatto Marameo a Gullit che non è assegnato neanche uno e a Van Basten? no no anzi solo di loro che mi ha fatto i complimenti è stato molto contento dopo questa doppietta nelle rimanenti 11 sfide di campionato Graziano Mannari collezionerà 8 presenze di cui ben 5 di fila da titolare in coppia fissa in attacco con Marco Van Basten tra la metà e la fine di giugno metterà a segno altre due reti la prima contro la Sampdoria durante la Supercoppa Italiana e la seconda in campionato contro il Bologna Mannari quindi a fine stagione collocherà nella sua personalissima bacheca una Coppa dei Campioni e la Supercoppa Italiana estate 1989 per Mannari si presenta un bivio restare al Milan come panchinaro di lusso o andare altrove e giocare? la scelta casca su questa seconda opzione e quindi il Milan organizza la cessione dell'attaccante prelevando Marco Simone dal Como in cambio proprio di Graziano Mannari sarei dovuto rimanere al Milan dichiarò anni dopo con Ilariani in Serie B giocò 22 partite segnando solo 3 reti e retrocesse in Serie C1 nel 1990 Mannari tornò in Serie A con il Parma e fu la sua ultima stagione in massima serie collezionando solamente 310 minuti distribuiti in 12 presenze l'ultima delle quali proprio a San Siro contro il Milan nel giorno in cui Arrigo Sacchi colui che lo aveva lanciato nel grande calcio diede addio ai rossoneri un vero e proprio scherzo del destino da qui in poi inizierà la parabola discendente della carriera agonistica di Graziano Mannari di lui pian pianino si perderanno le tracce a causa poi di numerosissimi infortuni alle ginocchia poco più che trentenne si vedrà costretto a dire addio al calcio giocato un'ultima curiosità di Mannari fecero epoca anche i soprannomi il primo fu Pier Silvio per la somiglianza con il figlio del presidente Silvio Berlusconi poi fu Ruud Gullit che stravedeva per lui a dargli il soprannome di Spidi Gonzales per la sua velocità in campo ma per tutti Mannari è Lupetto nickname affibbiatogli dal telecronista milanista Carlo Pelagatti che lo aveva derivato dal cognome Mannari Lupo Mannaro Lupetto Mannari Attualmente l'ex attaccante oltre ad avere un negozio di abbigliamento a Cecina è un apprezzato talent scout della Toscana per le giovanili del Milan e responsabile tecnico della Social School Milan di Singapore Purtroppo il tempo a nostra disposizione termina qui e quindi si conclude questa settima puntata di Casa Stene in versione Amarcord con la speranza che questa storia vi sia piaciuta vi ringrazio come sempre della vostra cortese attenzione e vi aspetto sempre qui su Stene Channel Ciao a tutti Ciao a tutti